Il segreto di Puente Viejo da lunedì 12 a venerdì 16, sabato Niente puntata per lasciare spazio ad amici Il segreto con le anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 novembre torna ad emozionare il pubblico. Ricordiamo che l'episodio di sabato 17 non andrà in onda per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici, condotto da Maria De Filippi. Nelle puntate della settimana, assisteremo all'arresto di Julieta, che finirà dietro le sbarre con l'infamante accusa di aver ucciso suo padre Ignacio. Intanto Alfonso, dopo essere uscito dal carcere con la moglie Emilia, dovrà fare i conti con una tremenda realtà, le percosse subite gli hanno causato una cecità quasi completa. Ad estare preoccupazione alla casona sarà l'improvvisa scomparsa di Francesca Montenegro, che sembrerà essersi volatilizzata nel nulla, dove sarà finita? Il segreto anticipazioni, Julieta arrestata, Francesca scompare. Le anticipazioni del segreto dal 12 al 16 novembre iniziano con l'arresto di Julieta, che verrà condotta in carcere da Meliton. Il militare, dopo essere stato a casa di Consuelo, raggiungerà l'Auriarte e Sol giusto qualche minuto prima dell'arrivo dell'autobus che li avrebbe portati lontano da Quente V.A. Nel frattempo Alfonso, uscito dal carcere con Emilia grazie all'inganno di Raimundo e ai danni di Perez de Ayala, scoprirà suo malgrado di essere cieco. Alla casona un mistero a Legia, dove è finita Francesca Montenegro? Maurizio e Raimundo, molto preoccupati, cercheranno la matrona in ogni dove, senza alcun risultato. Intanto Ayala verrà a sapere che Lulloa gli ha mentito e, curioso, ordinerà che Emilia e Alfonso vengano fucilati pubblicamente in piazza. Proprio nel momento clou, il generale verrà portato via dalle guardie, con l'ordine di arrestarlo immediatamente. Arriva il giorno della sentenza in tribunale ed Emilia è chiamata a testimoniare. L'Aulloa pare smarrita, come se non potesse confessare qualcosa di tremendo. Alfonso, non potendo immaginare che la moglie sia in quello stato a causa dell'abuso sessuale e subito in carcere, sospetterà persino della sua buona fede. Spoileri il segreto, Alfonso e i dubbi su Emilia. Le anticipazioni del segreto dal 12 al 16 novembre continuano con la preoccupazione di Alfonso, l'uomo non sa che Emilia è stata violentata e non comprende dunque il motivo del suo ritiro sociale. Intanto Fuglietta è finita dietro le sbarre, con grande stupore di tutti gli abitanti di Puente Viejo. Francesca Montenegro sembra essersi volatilizzata nel nulla e Raimundo inizia a vacillare. Infine Severo si riavvicina di Rene e i due chiariscono le rispettive aspettative, gettando le basi per un futuro sereno insieme a Carmelito.